Red Velvet, Self & Coffee Time presenta un evento eccezionale, il concerto rock del primo maggio, in collaborazione con Sergio Vistocco, Idea 77, Vasco Tribute Band e special guest Clau Moruni. Appuntamento live per vivere insieme attraverso le cover di Vasco Russi, emozioni di attimi indimenticabili in una serata all'insegna del rock e del divertimento. Ingresso libero, per info e prenotazioni 388 99 14647